oggi panino speciale iniziamo con la salsa sweet chili salsa al pepe nero e salsa boscaiola i funghi il misto di verdure e i pomodori mettiamo il panino a tostare e lo facciamo con i straccetti di pollo fritti i straccetti li abbiamo tolto dall'olio li abbiamo messo sulla piastra così si asciuga un po' l'olio il panino è pronto andiamo a mettere i straccetti all'interno eccolo ragazzi bello pieno croccantissimo ragazzi tanta roba grazie a tutti Grazie a tutti